Per le opposizioni il governo è diviso su tutti i principali dossier e sta portando l'Italia in recessione. Paola Cervelli. Tutta la sua incredulità per le scelte elettorali degli italiani, Berlusconi la ripete a porta a porta, insieme all'appello. Svegliatevi, dice. I cittadini non mi hanno capito, comincio a pensare sia per colpa loro. Nel campo per convincere gli italiani ad aprire gli occhi, per darci i voti che non ci hanno finora dato, per far sì che l'Italia possa andare in Europa con tanti voti, con un altro ruolo, per cambiare completamente l'Europa. Poi svela, ho provato a tentare Cairo a succedermi ma mi ha detto che non lo farà mai. Il reddito di cittadinanza per l'ex premier resta una presa in giro, molti furbi si licenzieranno e continueranno a lavorare in nero pronostica. Della protesta dei pastori parla Fratelli d'Italia.